Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi ragazzi parliamo di souvenir digitali, quelle piccole o grandi cose che cambiano in meglio la nostra vita e il nostro lavoro nel mondo digitale. In particolare sono eccitatissimo perché parleremo di un souvenir digitale che io stesso ho partecipato a creare. Ed è qualcosa che ha cambiato sicuramente in meglio la mia vita professionale e anche le mie relazioni professionali o personali. Naturalmente per quello che ha a che fare con il mondo digitale che è la mia grande passione. Ma prima di entrare nel vivo voglio ringraziare coloro che tra voi hanno scelto di essere produttori di strategia digitale. Ragazzi stiamo portando avanti un progetto di crowdfunding che è una gran figata. Se me l'avessero raccontato dieci anni fa che dei pazzi ascoltatori senza ricevere niente in cambio. Nel senso che non comprando un podcast ma scegliendo liberamente di finanziarlo avrebbero potuto sostenerlo. Avrei detto ragazzi ma siete fuori. Avrei risposto un po' come il nostro milanese imbruttito. Invece questa è la realtà. Sto parlando di Roberto Andreoni, Federico Izzi, Rosario Rizzo, Maria Pantone, Stefano 2.0, Erika Vagliengo, Mariano Lampis, Gianluca Gorlani, Maura Rizzo, Marco Bazzo, Daniele Risi, Fabio Di Maggio, Marco Paolini. Questi sono i nomi dei primi che hanno scelto di finanziare strategia digitale con un importo mensile piccolo o grande, non importa, un dollaro, 30, 50 dollari. Non è la cifra che è importante. È importante che delle persone dall'altra parte del microfono siano entrati in questa thank you economy, in questa economia della gratuità e della riconoscenza. Per cui, dopo aver ricevuto valore, vogliono ridare, reinvestire questo valore partecipando a un progetto come questo. Ragazzi, grazie di cuore. E se tu che mi stai ascoltando vuoi diventare anche tu produttore, non gli lasciare tutto lo spazio a loro. Diventa anche tu produttore. Senti il tuo nome pronunciato nelle nostre puntate andando su youmediaweb.com. Slash finanzia e lì puoi fare tutto. È veramente semplice e trovi anche un videotutorial. Bando alle ciance, come ormai rito dire. È ora il momento di scoprire il nostro souvenir digitale. Il souvenir digitale Il souvenir digitale E vediamolo qual è sto souvenir digitale di oggi. Il souvenir digitale è lo smart networking. Che cos'è questo smart networking? Prima un pochino di storia, ok? Torniamo un pochino indietro ad agosto di quest'anno. Quando tornato dal Sud Australia, sono stato invitato. In realtà era stato invitato già mentre stavo in Sud Australia, ma venire dall'Italia si faceva prima. Sono stato invitato a un evento fichissimo a San Pietroburgo, organizzato da Sam Rush. Che ha messo insieme degli esperti digital selezionati in base al criterio testuale, parole, della sempatia. Quindi ho parlato, gli ho chiesto, ma scusate, ma in base a cosa ci avete invitato? In base a cosa ci avete scelto? Perché venivamo da tutto il mondo? Cioè c'era quello da Israele, dall'Olanda, dalla Spagna, al Portogallo, dalla Francia. Quindi perché avete invitato proprio noi? Ecco, hanno invitato proprio noi perché erano quelli che gli sembravano più simpatici. Persone che oltre alle loro capacità professionali, potevano star bene insieme e divertirsi e creare una bella atmosfera. E così è stato. Ci siamo divertiti da morire. 3-4 giorni passate proprio, non so neanche dirvelo, come facendo dei giochi da geek come ci piace a noi, tirando a indovinare sui volumi di ricerca delle keyword, andando in giro per San Pietroburgo. Abbiamo passato, sapete che c'è questo fenomeno delle notti bianche a San Pietroburgo, per cui il sole non tramonta, o meglio tramonta per 10 minuti ma poi subito riesce. Per cui siamo andati in giro con un battello sul fiume tutta la notte, insomma, fichissimo. Durante questo evento ci hanno proposto un'attività, ci hanno proposte tante di attività divertentissime. Una in particolare all'inizio per farci conoscere, perché voglio dire, tutti i colleghi da tutte le parti del mondo c'era un attimino di, non lo so, di ghiaccio da rompere. Allora ci hanno messo tutti seduti a un tavolo e hanno detto, ragazzi, abbiamo pensato di fare uno speed dating. Lo speed dating è un formato di incontri, diciamo, tra uomo e donna, di incontri al buio, dove tu conosci, diciamo, ti ritrovi nella stessa stanza con delle persone dell'altro sesso, ti metti a parlare con ognuna per un numero di minuti definito, quindi, diciamo, se becchi quella che non ti interessa, velocemente il tempo del dialogo finisce e puoi passare alla prossima. Se becchi la persona interessante, hai il modo di scoprire che ti interessa e magari puoi approfondirci la conoscenza, la relazione dopo l'evento. Quindi è un formato carino e ci siamo divertiti tantissimo, perché in pochi minuti riuscivamo a scambiarci tante informazioni in una cornice di relazione personale. Cioè non è solo di che ti occupi tu, di che mi occupo io, ma come è successo che hai iniziato a lavorare col digital, per esempio. Quindi anche tirando fuori delle cose personali, ma in una cornice a tempo in cui sempre avevi alla fine il desiderio di saperne di più dell'altro e ormai la relazione si era creata, per cui avevi il contatto, avevi la possibilità di parlarci magari nei giorni successivi durante l'evento. Insomma, è stato veramente un'esplosione di relazionalità. Dopo questa esperienza sono tornato in Italia, ho partecipato a vari eventi, ho presentato il mio libro YouTube per il business e dovevo organizzare una presentazione a Roma dopo quella a Milano. Ho detto, senti, ma invece di fare la classica presentazione, perché non facciamo una roba come quella che abbiamo fatto a San Pietroburgo? Perché non facciamo uno speed dating tra persone che vogliono, sono interessate ad avere la loro copia del libro, ma poi si possono anche conoscere tra loro? E così è stato. Stiamo parlando di novembre, fine ottobre, inizio novembre, ho organizzato questo evento al Caffè delle Arti a Roma, che è un posto, se ci siete mai stati, il Caffè della Galleria Nazionale di Arte Moderne e Contemporanea. È un posto magico dove ci sono queste statue, l'atmosfera molto classica, rilassata. Insomma, ho invitato alcune delle persone con le quali sono in contatto, alcuni clienti, ascoltatori di strategia digitale. Ci siamo ritrovati lì in dieci, quindi un evento extra intimo, perché volevo che fosse raccolto, ci fosse un'atmosfera proprio di contatto personale. È stato un momento magico, assolutamente magico. Alla fine dell'evento tutti dicevano, io mi sono dimenticato lo smartphone, non so più dove l'ho messo, non so più dove sono, che ora è, è stato bellissimo, perché è stato estremamente coinvolgente, è stato proprio qualcosa di magico, ecco, non utilizziamo altre parole, perché alla potenza dei contenuti, io ho presentato il libro, ho portato delle idee, degli spunti di riflessione, si è andata a sommare la bellezza, l'energia della relazione tra le persone. E tutti hanno parlato con tutti, tutti hanno stretto la mano a tutti, tutti si sono scambiati la business card con tutti, e hanno potuto condividere le loro reali esperienze, le loro reali difficoltà, in quel caso nell'utilizzare il video come strumento di marketing, come strumento di marketing digitale. Quindi, al di là dell'atteggiamento ingessato che avremmo potuto avere dovendo parlare di business, è stata un'atmosfera proprio familiare, una cena, un tè tra amici. Dopo questa esperienza, una delle partecipanti, che poi è Mary Pantone, che avete ascoltato in passato, l'ho intervistata, è una social media trainer, quindi l'ho invitata perché si trovava a Roma quel giorno, è venuta, ha partecipato, mi ha detto, Giulio, è troppo bello quello che abbiamo fatto, ti prego, posso, e là già tremavo, posso portarlo in tutta Italia? Eh, gli ho detto, guarda Mary, sono contento di questa proposta, un attimo pensiamoci, vediamo, parliamone, poi lei è sempre impegnatissima, schizza di qua e di là, lungo lo stivale, e quindi è passato qualche altro giorno. Ci siamo ritrovati casualmente, in un intervento che ho fatto, in un acceleratore per startup, quindi in questo acceleratore per startup, della regione Lazio, ho ottenuto un corso su come utilizzare il video, come strumento di personal branding, di marketing, è l'occasione dalla quale è nato il corso, che ho fatto la scorsa settimana tramite il podcast, ha partecipato anche Mary, era lì, doveva fare un aperitivo subito dopo, è venuta, e di nuovo abbiamo fatto lo smart networking, ed è stato pure l'affichissimo, stavolta non eravamo intorno a un tavolo, ed eravamo molti di più, perché erano 30 startup, quindi abbiamo fatto un cerchio di maschi, un cerchio di femmine, che questo cerchi giravano tra di loro, creando delle combinazioni, insomma risate, finito tutto in maniera super goliardica, e i ragazzi pure sono stati molto contenti, e quindi Mary è ritornata alla carica, ha detto Giulio dai, facciamolo, continuiamo a farlo, è bellissimo, continuiamo a portare questo format in giro per l'Italia, e così è stato, infatti Mary ha organizzato il prossimo evento di smart networking a Milano, durante lo IAB Forum, il 29 alle 5 e mezzo, 5 e mezzo, sì, 5 e mezzo di pomeriggio, 5 e 30 di pomeriggio, e ci incontreremo per fare questo smart networking, questa volta lo speaker, perché c'è sempre una parte di formazione, poi una di networking, sarà Luca Mazzucchelli, psicologo, lo psicologo digital per eccellenza, che parlerà di come diventare influencer nel tuo settore, attraverso l'approccio mentale, quindi un tema molto bello, di crescita personale, di comunicazione, e poi ci sarà possibilità di fare smart networking, questo è quello, quindi non vedo l'ora di partecipare a questo evento, questo è quello che è successo, ma voglio un attimo fermarmi insieme a te a riflettere su quali sono le caratteristiche dello smart networking e perché è così efficace, allora fondamentalmente l'evento funziona così, ha una caratteristica fondamentale che non è aperto a tutti, quindi non tutti possono partecipare, se sei una persona non smart, negativa, una persona che non ha mai combinato niente, una persona che non ha energia, non ha idee, non utilizza i social media, non sta online, non ha energia, ecco, se sei scarico non puoi partecipare, quindi Mary seleziona le persone da invitare, e questo secondo me è un primo elemento, perché quando mi rapporto con persone che hanno a che fare con il mondo del business, del digital, io stesso incontro tante persone che mi chiedono delle consulenze, a volte ne trovo alcuni veramente scarichi, cioè ti fanno passare proprio la voglia, perché è tutto un sì, ma, un no, ho avuto sfortuna, mentre in realtà la bellezza del digital è che essendo un moltiplicatore di come siamo noi, un amplificatore, se noi siamo belle persone, ci amplifica questa bellezza, e quindi è un piacere dall'altra parte incontrare persone estremamente smart, che pur essendo magari prive di mezzi, o iniziando in questo momento a fare del business, però sono in grado di far partecipare, di far percepire questo loro essere smart agli altri, e fare un percorso di crescita molto veloce, quindi selezione all'entrata direi è una prima caratteristica che funziona molto bene. Dopo che sei stato selezionato, che cosa succede? Ricevi un invito a partecipare a un evento nella tua città. Non sai quando, non sai dove, ma un giorno ti arriva l'invito con tutte le informazioni, e a quel punto si attiva il secondo elemento, che è il tempismo. Il tempismo è fondamentale, perché devi riuscire a iscriverti in tempo, altrimenti ne rimani fuori, perché sono tutti eventi molto ristretti. Quindi non è che, vabbè, ci vado, sono un numero, no, non sei un numero, sei una persona con nome e cognome, e con altre persone, non una folla, poche persone, che hanno quindi la possibilità di lavorare in un'atmosfera più intima e raccolta. Quindi questo secondo elemento, il tempismo, ha la capacità velocemente di prendere delle decisioni che fanno bene al tuo business, è un elemento che fa vedere, diciamo che crea una selezione naturale, una selezione naturale tra quelli che non se la sentono, non sono pronti, non gliela panno fa, come si dice qui a Roma, e quelli invece che sono reattivi, che sono pronti a cogliere le opportunità. Un terzo elemento interessante, ne accennavo poco fa, è l'intimità, la dimensione intima, la dimensione personale, perché tutta questa attività di networking attraverso i social cosiddetti, quindi Facebook, LinkedIn, ci ha spersonalizzato, cioè ci rende lisci, privi di appeal, privi di caratteristiche proprie, sembriamo un po' tutti uguali. Ragazzi, dai, diciamoci la verità, andiamo su LinkedIn, il profilo di uno rispetto al profilo di un altro, più o meno sembrano la stessa cosa, e invece la bellezza dell'incontro personale, è che pure chi non si è ancora comunicato, chi non ha costruito il suo personal brand, chi è invece di comunicarsi, chi lo è nella sostanza, bello, con delle idee, intelligente, smart, attivo, energetico, è in grado di trasmettere questa energia agli altri, quindi il contatto personale in un'atmosfera intima e raccolta ti dà molta più libertà, molta più capacità di essere te stesso e di farti percepire per come sei realmente. Un quarto elemento molto molto bello è la struttura, il format, che abbatte tutte le barriere, fa sciogliere e rompe tutti i ghiacci. Io, non ci crederete mai, ma sono una persona piuttosto timida, cioè non sono uno che ti attacca a bottone per strada, mi piace starmene per conto mio, e diciamo dal punto di vista relazionale non è che sono proprio un tipo super estroverso. Ebbene, in questo contesto, come ho vissuto altre volte nella mia vita, per esempio con il tango argentino, per cui mi ricordo una volta sono andato a ballare tango argentino insieme a Robin Good, che mi ha accompagnato perché stava in macchina con me, pioveva da morire, non se ne poteva tornare a casa con la moto, è venuto e ha detto Giulio, secondo me siete tutti pazzi qua che ballate tango, perché un attimo prima non vi conoscete neanche, un attimo dopo senza neanche presentarvi, ballate cheek to cheek, questo ballo super passionale, un attimo dopo ancora ognuno ha i propri posti, cambia il partner o si prende un mojito. Ma come fate a fare questo? E io gli dicevo, Robin, questo succede perché c'è un contesto regolato da regole non scritte, ma condivise, per cui tutti sanno che, per esempio se vado a invitare una persona per ballare, quell'invito è gentile ricambiarlo, quindi la persona solitamente mi dice di sì, sia che voglia ballare con me, sia che semplicemente stia lì a godersi la musica, cioè per esempio non è vissuta come un cesto a provà il fatto che ti vengo a invitare, no, ti vengo a invitare a ballare, voglio ballare e lo voglio fare in questo momento insieme a te. Questa è una regola non scritta oppure il contatto fisico non è segno di coinvolgimento affettivo, emozionale. Allora in quel caso, siccome c'è questa regola non scritta, io posso abbracciare e ballare chick to chick una persona che non conosco, perché tutte e due sappiamo che non ci sto provando, sto ballando. Ecco, la stessa cosa la possiamo applicare in questo caso al business. Se c'è un contesto regolato in cui la regola è che per primo passo ci stringiamo la mano, guardandoci negli occhi e ci scambiamo il biglietto da visita, non è che ah tu mi hai chiesto il biglietto da visita, a me, all'altro no, per cui vuol dire che vuoi fare business con me e con l'altro no, oppure ah tu mi vuoi dare il biglietto da visita perché mi vuoi vendere i tuoi servizi. No, c'è un contesto strutturato in cui tutti hanno la libertà di conoscersi, di scambiarsi i contatti, il biglietto da visita, si rendono disponibili gli uni per gli altri e di ascoltare e domandare cose sull'altro seguendo una traccia perché una delle cose più simpatiche è che ci sono delle domande già pronte con le quali puoi rompere il ghiaccio perché se una persona non la conosci un po' ti vergogni di fargli le domande, no? Cioè dici ma può sembrare brutto. Invece ci sono le stesse domande che tu fai a lui e lui fa a te. Poi se volete spaziare nell'ambito dei tre minuti, dei cinque minuti lo potete fare tranquillamente ma ci sono delle domande che sono una traccia per iniziare la relazione. E l'ultimo, secondo me, elemento super super interessante è l'apprendimento, è l'accesso. Allora tu in quel contesto hai accesso a delle informazioni, a delle relazioni in una cornice emozionale. Che cosa voglio dire? È diverso quando studi una cosa seduto davanti al computer guardando un videocorso oppure seduto in un'aula perché c'è un'energia diversa. Questo l'ho visto in maniera molto chiara per esempio a Inbound a Boston quando veniva tutto trattato come un evento in discoteca. Quindi musica alta, le luci, l'intrattenimento e poi boom, dei blocchi di formazione molto pesanti, molto consistenti, interessanti che si andavano a inserire in una cornice emozionale. Bene, il mio cervello era molto 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 più reattivo. Per assurdo, anzi non per assurdo perché siamo fatti così, quando siamo più caldi emozionalmente la nostra percezione aumenta aumenta. Quindi riusciamo a essere più permeabili alle idee che ci vengono dal di fuori. Bene, sia per la parte formativa, quindi sia per le informazioni portate nell'evento dallo speaker che dà un breve speech di 20-30 minuti su un tema legato al digital, al business, alla crescita personale, al marketing. Quindi sia su quella parte là, sia sulla parte successiva di relazioni. Quindi sia sulla formazione che sulla relazione io ho accesso a questa formazione e relazione in una cornice emozionale che mi rende più capace di entrare in queste informazioni, in queste relazioni. Parlo di relazioni anche perché a volte si fanno delle carambate, cioè ah ma tu lavori là, ma lo sai che è pure un mio amico? Ah lo conosci? Da anni vi conoscete? Fichissimo. Scopri delle connessioni reali. Mentre quando vai su LinkedIn dici vabbè questa è connessa a quell'altro, ma lo conoscerà? Boh, forse gli ha chiesto la connessione così. Quindi nel digital a volte non è la garanzia delle relazioni, cioè non riesci a capire, vedi la quantità ma non vedi la qualità. Ecco, un evento come lo Smart Networking è tutto basato sulla qualità. Quindi non vedo l'ora io di partecipare al prossimo evento, che è quello del 29 novembre. Ho chiesto a Mary Pantone la possibilità di mettervi il link direttamente nelle note dell'episodio e ve lo metto, probabilmente lo troverete esaurito perché ci sono pochissimi posti ancora disponibili, però sarebbe veramente bellissimo poterci incontrare a Milano. E se volete provare con i vostri occhi, toccare con le vostre mani l'efficacia di un evento del genere, andate a richiedere l'invito. Lo potete richiedere su smartnetworking.it Vi metto naturalmente anche questo link nel noto dell'episodio. Potete richiedere di essere invitati per la vostra città e chissà che magari tra pochi giorni o tra qualche settimana o magari tra un mese o forse mai, se non siete delle persone smart, perché è detto chiaramente che se non siete smart non verrete invitati, quindi se siete delle persone smart sarete invitati a un evento e magari ci incontreremo proprio lì. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Veramente questo smartnetworking mi sta gasando oltremodo. Fatemi sapere che cosa ne pensate scrivendomi a strategiadigitale.com oppure su Telegram, su Snapchat. Io tenterò di raccontare, se non posso, il durante, almeno il prima e il dopo su Snapchat, quindi venitemi a cercare e voglio ringraziare di cuore coloro che stanno lasciando delle fantastiche recensioni. Ne leggo una lasciata da Birde67 intitolata Podcast Imperdibile. Non ricordo come sono incappata in questo podcast ma certamente mi ricordo ogni mattina di ascoltare i consigli di Giulio Gaudiano e le interviste di Sara Veltri. Oggi lo ritengo un momento imperdibile di approfondimento, di crescita professionale e anche personale. Grazie per tutto il tempo, conoscenze e l'impegno che regalate ma grazie a te, grazie a te per la tua recensione che ci ripaga di tutte le fatiche, i pensieri, il lavoro perché noi ci divertiamo lavorando. È bellissimo farlo ed è bellissimo sapere che questo ha un impatto nelle vite, nei lavori concreti tipo che ci state ascoltando. Allora, ringrazio anch'io Sara Veltri, cuotrice del programma, il nostro fonico Costanza Mineo e naturalmente radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima! Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano